Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Marco Trovaglio, anche a Grillo piace Elischlein da quello che abbiamo sentito e letto? Ma sì, ma io non mi meraviglio perché Grillo ha sempre detto che il suo sogno era che tutti i partiti venissero contaminati dal programma e dalle idee, tant'è che lui ha sempre definito il suo movimento biodegradabile, prevedendo che un giorno sarebbero diventati tutti grillini e quindi non ci sarebbe stato bisogno di un movimento grillino. Non so se Elischlein ha visto questo, senza dubbio tra i leader del PD e quella che assomiglia di più alle idee del Movimento 5 Stelle e il fatto che nasca nel 2013 con le proteste contro la rielezione di Napolitano che impedì l'elezione di Rodotà al Quirinale e quindi quel governo del cambiamento che avremmo avuto nel 2013 e che invece abbiamo dovuto poi aspettare nel 2019 per vedere, cioè l'alleanza fra la sinistra e il Movimento 5 Stelle è una cosa che fa piacere a Grillo. Tutti lo dimenticano, ma Grillo prima di fondare i 5 Stelle si era iscritto al PD per diventare segretario. Si, sembrava più una provocazione che altro. No, no, si iscrisse veramente e gli dissero, Fassino fece il famoso annuncio se Grillo vuole fare politica fondi un partito e vediamo quanti voti prende. E così ha fatto. Da allora diciamo, va bene. Gli diede un suggerimento che forse Grillo non aveva nemmeno preso in considerazione. Vi faccio vedere adesso il punto di Paolo Pagliaro.